Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi andrò a spiegare come creare una montatura per la brem Anche come crearla per la pesca con il galleggiante a vela Mi raccomando lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Presto arriveranno altri video Prima di iniziare col video, via con la sigla! Come detto un po' di video fa, per la pesca alla brem ci vuole un galleggiante che sia molto sensibile Quindi meglio con l'astina in vetro resina E per una buona montatura ci vuole un bel bulk A seguito un numero superiore a 3 pallini fino ad arrivare a 6 A una buona distanza tra loro Possono essere scalati quindi avere una distanza sempre più grande Fino ad arrivare all'asola Vediamo un attimo Ok, fino ad arrivare all'asola Oppure un pari di distanza quindi magari un 8 cm, 8 cm, 8 cm e 8 cm di distanza l'uno e l'altro Comunque non devono essere troppo attaccati per questo tipo di lenza Perché la mangiata della brem è molto ma molto delicata E facendo spostare un pallino e con il suo movimento e i pallini messi in questa maniera La mangiata si riesce a vedere molto meglio soprattutto con questo tipo di galleggiante In genere per questo tipo di lenza si utilizza un cavetto di un minimo 15 cm per arrivare ai 30 cm Di solito si sta sui 20 cm come lunghezza del cavetto Sicuramente una tipologia di galleggiante molto utilizzata è questa per la pesca alla brem Risulta molto sensibile e adatto a vedere sia starate sia le mangiate Starate in particolare con questo sono facilmente visibili Soprattutto perché se stara, starà di tanto così generalmente Quindi si vede molto facilmente in nero Invece ci sono altri galleggianti tipo questo Quando stara, magari starà tanto così C'è un po' di differenza Infatti si preferisce il primo galleggiante per questo tipo di pesca Quindi andiamo a parlare della pesca col galleggiante avena Galleggiante avena come detto un po' di video fa Può avere varie forme Vari tipi di galleggianti Possono avere forme diverse e utilizzi diversi Come detto in precedenza Questo tipo di galleggiante serve per andare in corrente Quindi stare inclinato e lavorare più o meno così A questa inclinazione qui Quindi vedete che non deve star dritto Invece un galleggiante così dovrebbe stare dritto È fatto per la passata questo tipo di galleggiante In modo da stare così Una passata abbastanza trattenuta Invece Anche questo è fatto per la passata Però può essere anche un po' utilizzato per la trattenuta Se volete mettere a confronto questi due che sono molto simili Sono entrambi round Ovvero tondi Però come vedete Quello con l'astina gialla Ha l'astina inclinata Come vedete hanno due angoli diversi Infatti questo sta in linea con l'astina Invece come vedete qua ha una forma diversa È fuori con l'asse Non è nell'asse dell'astina Anche l'astina è inclinata E questo è proprio fatto per stare in corrente piantato Questo tipo lo preferisco per la pesca Infatti della brem O comunque pescare piantato Su bigattini in colla Per cavedani Ma preferibilmente brem Gardon e carassi Invece Galleggianti come questo e questo Preferisco utilizzarli Su pesci Che stanno abbastanza in movimento Quindi cavedani Cefali Anche gardon di belle dimensioni Lasche Scardole Per quanto riguarda la lenza Dai 10-15 grammi in su Utilizzo uno 0-18 Più che altro per i posti in cui li utilizzo Un 20 in su Uno 0-18 È un filo minimo Si potrebbe andare anche su 0-20 E 0-22 Dato comunque che sono pesi Comunque molto grossi E implicano un grande sforzo Sia da parte del filo verso il pesce Sia da parte del filo verso il piombo Perché subiscono sia l'azione Del pesce Sia in ferrata Lo sforzo del piombo Che va a Battere sul filo Quindi anche il mix di entrambe È un fattore molto stressante Per il filo Il finale può essere utilizzato Su lense compatte Ovvero lense Su una lenza chiusa come questa Vedete un grande bulk Fatto con due bei pallettoni E comunque Pallini doppi Abbastanza chiusi Con poco spazio Si utilizzano 10-15 cm al massimo Perché si vuole una montatura Che vada giù sul fondo E stia lì bella piantata Invece se no Si può andare dai 20 cm in su Come Come terminale Per le montature Che Sono un po' più aperte Come questa Come quelle che Vi andavo a rincare prima Quindi bulk E tanto così Di spallinata Bene Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è stato così Mi raccomando Mettete like Commentate il video Iscrivetevi al canale E condividetelo Presto Altri video E per questo video è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti